Musica E' iniziato il match tra Creepers e FC Cadreghe, la squadra di Gianmarco Caldore Contro quella di Gabriele De Luca, due vecchie conoscenze del torneo di Lanzarotti La magia, smarcarsi, la chiusura di Lanzarotti, Sellitto, un rimpallo, ancora trinchillo di sabato, non allontana De Luca Lanzarotti di sabato, Minopoli, calcia alto Zurgio, la piazza De Luca Sellitto, la porta Zurgio, il tunnel a trinchillo E poi calcia sul fondo Qui il tiro Di Russo, che risolve una mischia Calciato dal limite e battendo De Luca per il vantaggio meritato dei Clippers Sellitto, alto Zurgio, accelera, Zurgio, con la punta E De Luca, smanaccia in corner Si chiude qui il primo tempo, punteggio di 1-0 per i Clippers contro le Cadreghe Punteggio che comunque nasconde a verità di un primo tempo che ha visto i Clippers giocare a una porta sola Vedremo se nel secondo tempo le Cadreghe riusciranno a riscuotersi E' ricominciato il match tra Clippers e Cadreghe Punteggio di 1-0 per i Clippers Partita a senso unico nel primo tempo Vedremo se le Cadreghe riusciranno a cambiare musica Di nuovo li mette dentro per Lanzarotti Valla chiusa, allora Sellitto, va a accelerare Sellitto, Sellitto, Sellitto Il filtrante, valla per Manelli, Sellitto, De Luca Sellitto Ok, inserimento di Caldone Caldone De Luca si oppone Poi Zurgio lo calcia Lato Doppia occasione per i Clippers Il lancio per Lanzarotti Che rientra Lanzarotti Calcia Murato Terminopoli Minopoli Calcia Murato Ancora Minopoli Di sabato Il tiro Caldone Mura Ancora di sabato Alto Zurgio lo Portavalla Zurgio lo Zurgio lo Zurgio lo Ciuso Caldone Magnetta Lanzarotti Palla dentro Minopoli Controlla Minopoli Sarti Si oppone Qui la palla Regalata Da De Luca Audrugio Per la rete del 2 a 0 Dei Clippers Regalone Concesso Da De Luca Minopoli Bene per Magnetta Poco 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 Penso Che la palla Regalata Minopoli Per la rete Del 2 a 1 La riaprono Le cadreghe Nel finale Si chiude qui il match Punteggio Di 2 a 1 Per i Clippers Che soffrono Faticano a metterla dentro Ma alla fine Portano i 3 punti A casa